culibali kk si parte da uno ovviamente 8 9 13 15 16 15 16 ultima offerta 51 71 71 71 80 80 amica las vegaso amica nel coro dove c'è il bambino su cosa siamo fermi cui bali 80 81 81 81 81 82 81 e 33 30 30 da seriale devo prendere punto i muci si muci si vede 40 teo hernandez 15 per teo hernandez 31 100 boom 100 teo hernandez bobo e 1 100 101 101 scusa bobo questo non te lo lascio 132 ma bobo c'ha crediti limitati in questo gioco non è perché non è perché bobo tv ha capito bobo tv c'è il marchio 20.000 crediti no 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 mille 20.000 e decidi te quanto ne vogliamo fare ce n'hai mille 132 bobo te lo lascio 100 2 1 100 2 2 132 e 3 bobo veri teo hernandez poi voglio capire bobo gli attaccanti chi prendi donna rumba da serie b caracciolo bene bene ridi e ridiamo ridiamo ok ragazzi al prossimo ho lo vuoi un fika tomori 15 15 attenzione ho sentito fika chi è? mi dissocio mi dissocio dissociati quello che fai sempre tu no mi dissocio tomori 10 no quel cicletto 15 ultimo 16 20 20 21 per tomori 22 ok alziamo 24 27 28 30 31 31 40 e la miseria 41 non te lo lascia vedrai perché è aggressivo troppo come ti conosco Lele chi ha messo 41? io Alessandro bravo che nome è meglio? no no Ale tranquillo mi faccio un passo indietro sì allora chiamiamo Faraoni ti lascio andiamo ti lascio qualcun altro 41 e 1 41 e 2 41 e 3 ha giudicato Tomori Alessandro il prossimo ragazzi il gruppo ok gran bella chiamata tu non devi condizionare ma questo si fa anche per strategia ma tu per chi giochi? fammi capire strategia di che tu sei imparziale o? Lele Lele vedo vedo Bobo Peserò scelto 32 finito solo Bobo sei un personaggio tranquillo passa Rosario domani secondo me Lele secondo me se lui mette tre portieri in porta prende tre gol a partito ho senso io offro per Spinazzola infortunato della Roma uno quattro cinque torna a te la Diego come no? cinque uno sette per Spinazzola no no l'ho vista l'ho vista Lele l'ho vista hai visto dieci? il dieci di Romane l'hai visto? quello è senza prezzo Lele quello lo sai è senza prezzo l'ho visto mille crediti per la maglia di Romane di più vogliono mille crediti ti danno mille crediti no di più di mille diecimila crediti senza prezzo Romane Romane 11 carica diamo sempre carichiamo 8 8 8 no era 9 già 10 10 10 Spinazzola 1 10 Spinazzola 2 12 12 Lele Spinazzola 1 12 e 2 13 13 13 13 in extremis 13 e 1 13 e 2 13 e 3 perfetto che è Miss Spinazzola 13 il prossimo ragazzi chi tocca? Bobo 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 il primo si si ah Bobo io? che? Godin 5 rotto 9 è vero? no 7 per Godin va in campo lo stesso Godin io offro 7 per Godin 7 col piccolo avento 10 10 eh devo prenderlo 10 quindi offro quello che vuoi 10 10 e 1 12 12 per Lele 13 15 per Bobo 16 20 21 21 21 e 1 21 e 2 30 30 30 30 Godin Bobo e 1 e 2 e 3 ha giudicato grazie 10 il prossimo ragazzi Lele no tocca a me mi sa no tocca a me dopo Bobo allora io offro offro no 1 partiamo da 1 1 per quadrato 5 5 5 quadrato 30 30 31 32 32 vai ti offre di più 33 42 55 8 38 Lele 40 40 40 sì siamo a 41 ragazzi 41 e 1 2 45 45 45 Lele 45 1 45 50 50 e 1 e 2 e 3 ha giudicato quadrato Lele Adani si parte da 1 ma lo fa giocare Allegri fatti i cazzi tuoi non lo fa giocare lo metti in palchini dato che la mia 1 lo faccio giocare io 40 40 aspetta Bobo è partito con 40 è partito 40 2 2 che facciamo i bruscolini ma Bobo questo gioco non si capisce io gioco la catenaccia io voglio fare di te io gioco catenaccia che cazzo bobo 40 ho detto io ah hai detto te 40 scusa 41 voglia delit 41 Antonio 1 2 3 ha giudicato perfetto grazie a amico la ventola devrai devrai parto con 5 parti ok perché non parti con 1 scusa fai fare agli altri veramente ma è stupido che è 40 chi 40 40 Bobo per devrai qualcuno offre di più 41 41 ragazzi 41 alessandro 41 41 41 e 2 41 e 3 Gosens 8 20 25 30 32 35 e 1 per Gosens 37 38 38 39 40 41 42 43 43 44 46 50 50 51 55 51 55 siamo ragazzi 53 53 53 68 60 61 61 61 61 62 62 62 e 1 62 63 66 65 65 per Gosens e 1 e 1 e 2 67 67 68 68 68 68 e 1 70 ultima offerta 70 71 71 71 e 2 71 e 3 perfetto Gosens Kevin ok Casale del Verona 2 qualcuno qualcuno rilancia non so nemmeno chi cazzo è è 2 e 3 Casale 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 8 quindi finiamo alle 6 di mattina va bene Mele Mele dell'Atalanta 2 2 5 6 10 11 12 13 16 20 e lascio 20 e 1 21 21 e 1 22 22 22 Antonio 23 23 23 23 Mele 1 25 25 si inserisce Lele che giocata Lele all'ultimo 26 26 e 1 rilanci Lele o no 27 27 27 27 1 38 30 30 cifra tonda e 1 e 2 33 mele mele pancherino è a posto il prossimo ragazzi Antonio tocca a te eccomi qua scrigna 2 25 26 31 31 45 ho sentito un 45 45 45 45 50 troppo alto 51 55 nicola e 1 per scrigna e 2 e 3 ha giudicato e bonucci bonucci 1 2 3 10 10 e 1 11 11 12 e 1 12 12 13 qualcuno rilancia 13 15 16 16 16 16 1 16 2 16 e 3 perfetto bonucci 16 Antonio Cassano il prossimo ragazzo chi tocca zappacò 16 rimposta 2 5 6 10 13 15 16 18 19 19 19 19 19 19 20 19 1 zappacosta 19 20 20 21 21 21 si 25 25 zappacosta e 1 27 27 27 e 1 27 e 2 27 e 3 ha giudicato zappacosta 27 toloi 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 in casino ha già fatto quello quello è in casino qua te 10 io 10 10 chi ha rilanciato 10 io alessandro ok bravo di termine alessandro toloi 10 e 1 10 e 2 15 15 nick e 1 15 16 kevin 1 20 20 per toloi e 1 e 2 25 25 lele rilancia per toloi e 1 e 2 30 30 il rilancio di nick per toloi 1 2 31 31 e 1 32 32 e 1 33 col segno della croce 33 e 1 per toloi e 2 e 3 per lele adani ha giudicato 33 allora mancini 2 ma non gioca eh mancini 7 7 12 per mancini ultima offerta 13 13 14 15 15 15 16 18 18 18 mancini e 1 20 20 mancini e 1 per antonio cassano e 2 e 3 ha giudicato 10 12 16 18 19 19 19 19 20 19 19 20 20 20 21 21 22 21